San Giovanni Bosco, il fondatore della congregazione dei Seresiani, era molto devoto agli angeli, tanto d'aver voluto celebrare la sua prima messa il 6 giugno 1841, proprio all'altare dedicato all'angelo custode nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Torino. Se vi trovate in qualche pericolo di anima o di corpo, invocate il vostro angelo custode e state certi che ne avrete aiuto, raccomandava sempre ai ragazzi dell'oratorio. Uno di loro, che faceva il muratore, stava lavorando all'altezza di un quarto piano, quando improvvisamente sentì cedere l'impalcatura sulla quale si trovava con due compagni. Mentre precipitava, si ricordò delle parole di Don Bosco e chiamò con fede l'angelo custode. L'invocazione fu efficace, gli altri due morirono all'istante, mentre lui si rialzò dalle macerie perfettamente illeso. Preghiera all'angelo custode di San Pio da Pietrilcina. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché vede il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché non mi abbia portato in paradiso, ove lo diremo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Grazie a tutti.